C'è un male oscuro dentro di noi che sale come la bile e ci lascia l'amaro in fondo alla gola è lì, in ciascuno di voi, seduti intorno al tavolo solo quando sappiamo cosa ci affligge possiamo sperare di trovare la cura Lei che idea si è fatto? Ha perso il senno, chiaramente l'abbiamo pensato anche noi Vorremmo che andasse in Svizzera e riportasse qui il signor Pembroke Ciò che offriamo qui è un semplice processo di purificazione lontano dal logorio del mondo moderno Ha intenzione di riportare il signor Pembroke con lei? È un problema? È un paziente, non un prigioniero Sei qui per la cura? No, a dire il vero stavo andando via Nessuno va via Bentornato, signor Lockhart Non c'è commozione cerebrale Sistema immunitario azzerato Mi piacerebbe consigliarle un trattamento La veda come una depurazione della mente e del corpo Alcuni pazienti manifestano visioni Si tranquillizzi sono le tossine che lasciano l'organismo C'è una terribile oscurità qui E' accaduto 200 anni fa Ma questo sta accadendo ora Hai detto che nessuno va via Che fine fanno? Ho visto i cadaveri Ma cosa dice? Lei non sta bene Volete farmi credere che sono pazzo? Anna! Cosa c'è che non va in me? Fa tutto parte della cura Non c'è una cura! Accetti la diagnosi E vedrà È magnifico qui